Buongiorno Gianpaolo! Ciao, ciao Federico, buongiorno! Di nuovo i complimenti per l'idea bella, originale che hai avuto, perché ci racconti il Catania da un'altra prospettiva. La domanda è come ti è venuta questa idea? Mi è venuta perché io ho una formazione, diciamo, teatrale, sono vissuto fuori per tanti anni e scrivo anche per il teatro e non solo. E a questo punto, in un momento, diciamo, di stallo, tra virgolette, del mio percorso artistico, ho pensato che potesse essere una buona idea mettere insieme quelle che sono le mie passioni, quindi la parte creativa e il mio amore per il Catania. Nuovi appuntamenti che ti ho obbligato con un personaggio che, come tutti sappiamo, sabato purtroppo c'è stata la ricorrenza, il primo anniversario senza di lui, senza il mitico Sinisa Mikhailovich. Ho cercato di raccontare proprio l'impatto che lui ha avuto su Catania. Questo podcast è meglio decidere appunto a tutti perché è una forma di produzione culturale che è fondamentale in una città e gli episodi di mercoledì lo dimostrano che sta avendo delle carenze culturali molto importanti. Grazie. 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 Grazie.